Bonsignore, oggi lei ha dato una definizione, il PNRR, che mi è piaciuto moltissimo, quello che ha detto che manca una R, cioè quella della responsabilità, che è un po' il problema di tanti fattori. Sì, certamente, ed è una responsabilità che va recuperata e declinata in diversi modi e coinvolge tutti, e questa è anche la prospettiva importante. Cioè noi parliamo di una responsabilità in sanità del mondo politico che deve garantire un governo efficiente, ma abbiamo una responsabilità di chi dirige a livello manageriale, abbiamo una responsabilità che va molto più recuperata e anche valorizzata di medici, infermieri, operatori sanitari, che dovrebbero aiutarci a capire quali sono le cure più efficaci, più appropriate, necessarie, ma c'è anche una responsabilità che va recuperata anche questa, della stessa popolazione. come essere più partecipi quando si parla di sanità, di piani sanitari, di priorità, ed essere anche più responsabili della propria salute, della propria corporeità, delle stili di vita. Cioè la salute è frutto di tutti, non è solo una questione medica, o una questione economica, o una questione ambientale, ma è una questione che coinvolge, in maniera responsabile, tutti i soggetti coinvolti. E quindi non è un processo quasi dall'alto al basso, ma è un processo circolare, in cui c'è la politica, ci sono i professionisti, c'è anche il cittadino, che deve essere più consapevole di cosa vuol dire salute, cosa vuol dire far funzionare bene un servizio sanitario, e come essere più partecipe delle progettazioni, delle decisioni, ma anche del stile di vita e della collaborazione per promuovere una buona salute e far funzionare bene la sanità. Grazie.